bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi siamo su un gioco per il telefono e niente questo gioco si chiama johnny trigger da come potete vedere ok beh allora questo gioco allora questo questo allora comunque comunque qua dovreste vedere un po un po difficile non è difficile però non prendere lo stagio vedi vedi comunque questo il telefono per l'appunto lo sto registrando con il cavo sapete la scheda di acquisizioni video quindi ovviamente ditemi la quantità come cioè io io ovviamente il video di prova l'ho fatto vabbè vabbè io come dire gli smerati questi qua viola non ce li ho no c'è capito io ho già fatto un video di prova con il telefono a registrare per come sto registrando però ovviamente per me è buono mi dovete dire voi se per voi vedete perché vi dico che buono perché perché ma il telefono sta solo il telefono sta soltanto il telefono deve soltanto per come dire far girare il gioco per come dire per registrare non sta registrare non sta registrare una scheda video la scheda di acquisizione video vabbè sempre sto fatto che non posso prendere lo stagio ovviamente di ovviamente consigliatemi giochi per il telefono vabbè che vorreste vedere questo prendo ecce questo giochi carino no perché io se vi posso dare un consiglio per quando c'è come dire giocate i giochi io vi posso dare un consiglio wifi e dati mobili disattivatevi missione tanto io devo giocare in un'altra cosa in pieno muori uno due tre 360 gradi io qualche volta mi scordo che voi effettivamente qua che voi effettivamente qua vedrete lo schermo del mio cellulare poi ovviamente un video in un video in verticale ovviamente la scheda video ma lo registra con le bande nere rate poi vabbè in editing le vado a togliere cioè non è grave dice che non c'è internet però io lo so perché l'ho tolto io apposta internet perché giustamente devo fare i video non è che posso fare i video con la pubblicità che mi appare perché qua appare la pubblicità cioè appare sempre però io ho già mangiato la parmigiana voglio chiaramente mangiare facciamoci quattro chiacchiere qua sotto nei commenti vediamo il costume quale è ciclope ciclope quello della marvel però non ho internet nuovo sbocco questo è questo era un po più facile perché stavano più distanti ovviamente se volete consigliatemi giochi per il telefono perché perché di giochi ce ne sono un'infinità sul cellulare quindi se me li volete consigliare è buono ho capito che combatti contro i boss ma facciamo questo e poi i boss muori muori oh è morto mi chiedono grazie ma come ho fatto a prendere anche quell'altro non so vabbè poi mi spiegate nei commenti ovviamente seguitemi su se l'ho preso un ostaggio c'era in pieno l'ho preso ovviamente attivate la campanella mi raccomando iscrivetevi se vi volete iscrivere sì ma non devi prendere l'ostaggio che palle ovviamente l'audio ovviamente l'audio non esce dal cellulare però come una normale console esce dal dalla tv la mia non è solo una tv vabbè ci ho collegato le casse io come dire l'audio lo sento perché ce l'ho perché ho le casse appoggiate ma ovviamente me le sono tolte perché è un po' inutile però l'audio si sente il casco rosso un po' basso perché è un po' forte no grazie ok con questo che dice tocca per giocare noi ci vediamo ad un prossimo video se vi è piaciuto ovviamente non esitate a mettere un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi e attivate la campanella noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti